Musica Amiche e amici di Rossini TV, inizieremo con una battuta ovviamente molto facile. Come passa il tempo? Perché è già passato un anno da quando avevamo realizzato questo ciclo di puntate di avvicinamento al Festival e perché sembra ieri che abbiamo cominciato la prima delle puntate e siamo già la terza. Cristian benvenuto. Ciao Paolo, grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Siamo con Cristian della Chiara e stiamo parlando da qualche settimana del Festival dei Gadi che è arrivato alla 77esima edizione per questo anno da Capitale Italiana della Cultura. Un'edizione ricchissima, un'edizione intensa, un'edizione che ha fatto accendere già in anticipo i riflettori sul Teatro Rossini che è appunto sede di tutte le iniziative e che è intensamente utilizzato quest'anno perché sono un sacco di spettacoli. Sono un sacco di spettacoli, sono otto gli spettacoli in concorso, tre gli spettacoli di vetrina capitale delle compagnie pesaresi, un musical, uno spettacolo per celebrare i 60 anni della Lega del Filodoro e un evento speciale, il giorno d'apertura, tutto dedicato agli adolescenti, alle problematiche dell'adolescenza condotto dal professore Giorgio Nardone. E non dimentichiamo la mattinata di premiazione, invece quella si tiene? Il 27, domenica 27 ottobre quando si concluderà tutto, sarà la grande festa conclusiva con i premiati e poi un pranzo tutti assieme. Allora abbiamo girato intorno, avete seguito le puntate, ci avete seguito per due venerdì, questo è il terzo, qualcuno di voi sarà andato a vedere anche di recuperare le puntate precedenti con l'app o col canale YouTube. A questo punto non possiamo più sfuggire, vi abbiamo invogliato a fare l'abbonamento sulla fiducia, non possiamo più sfuggire. È ora di cominciare a parlare delle otto compagnie, delle otto rappresentazioni in concorso. Sì, ma io mi prendo un'altra premessa ancora, perché prima di quello voglio dire che il festival, il primo evento del festival, sarà in concomitanza con la prima giornata, abbiamo parlato dell'evento di Giorgio Nardone dedicato alle problematiche dell'adolescenza, tre focus nella giornata dedicata alle problematiche degli adolescenti e di chi con gli adolescenti ha a che fare, quindi i formatori, in un teatro rossinico ospiterà la tradizionale mostra fotografica organizzata dal Fotoclub. Perché in questa ultima puntata mi piace anche parlare dell'associazione Amici della Prosa come un punto di un network di associazioni che collaborano a questo appuntamento. È uno dei nostri punti d'onore, direi, il fatto che lavoriamo assieme ad altre associazioni che operano nel tessuto socioculturale della città. Il Fotoclub da tanti anni ci segue, realizza le immagini del nostro festival e poi organizza la mostra che accompagnerà nelle due settimane di festival gli spettatori che verranno al Teatro Rossini e potranno in modo di vedere i migliori scatti dello spettacolo dell'anno precedente, quindi grazie ai ragazzi del Fotoclub che poi anche quest'anno documenteranno il festival, faranno le foto protagoniste della mostra del prossimo anno e poi anche all'associazione Amici della Ceramica che da qualche anno, e qui con un affettuosissimo e commosso ricordo di Stefano Maggi che ebbe questa idea di mettere insieme queste due realtà, quindi gli Amici della Ceramica realizzano i premi, devo dire, meravigliosi e apprezzatissimi dalle compagnie, i premi con i quali il festival appunto omaggia i vincitori delle varie categorie. Quindi un network di realtà che assieme all'Università dell'Eta Libero è un soggetto che ci accompagna, con il quale organizziamo assieme l'evento per i 60 anni della Lega del Filodoro insomma tante network che assieme collaborano all'insegna di una città più bella, più coesa e che ama collaborare. Ci piace fare questo rimbalzo, questo ping pong tra l'antico e il moderno, abbiamo giocato sull'idea appunto dei 77 anni fa allora ti regalo una definizione, un hub. È un hub, è un punto di incontro e di scambio, ricordiamo che tra i vari appunto riferimenti c'è anche Vaghe Stelle dell'Orso legata alla poesia, c'è tutto il teatro scuole, insomma ci sono tantissime attività. Noi ovviamente andiamo in vetrina con quello che è il Festival dei GAD che ogni anno propone è questo calendario, questa visibilità straordinaria, ma l'Associazione Amici della Prosa dal giorno dopo, come dicevo nella prima puntata, da quando i roll up si chiudono non va in letargo, anzi inizia non solo a lavorare alla edizione successiva che l'anno appunto sarà nel 2025 la 78esima, ma inizia a fare tutto quello che fa durante l'anno e sono veramente tante in questo ruolo di hub artistico che mette in collegamento delle eccellenze, possiamo dirlo delle eccellenze importanti di tutto quello che ruota nei vari ambiti intorno alla città e lo fa tra l'altro con un'attenzione speciale a valorizzare ognuno, perché per esempio questo fatto delle ceramiche potrebbe sembrare, se uno non ci pensa bene, un abbinamento strano, poi invece alla fine dice no, è perfetto, è la perfezione perché c'è da fare, da realizzare i premi fisicamente che poi hai voglia di dire che si partecipa tanto così, si concorre per partecipare no, si vuol vincere, il premio si porta a casa molto volentieri e quando si porta a casa, me lo immagino, nella loro sede un oggetto d'arte bellissimo, realizzato con la sapienza manuale ma col cuore, insomma sicuramente si percepisce questa cosa alle compagnie arriva forte ed è un motivo in più per cercare di vincere Guarda, ogni anno arriva una compagnia che magari è stata presente al Festival 20, 30, 40, 50 anni fa e arriva con un cimeglio, con una foto della sede dove è appesa la locandina di quando erano stati al Festival negli anni 60 o il premio che avevano vinto, quindi anche l'oggetto fisico ha un valore nel tenere viva la memoria di un'esperienza bella come quella della partecipazione al Festival E le fotografie per esempio di cui abbiamo appena parlato ne sono proprio l'esempio più eclatante è vero che da una parte è un set teatrale, un palco, sembra fatto apposta per fare le foto ma poi quando fai le foto loro non è che si mettono in posa per la foto Per cui ci vuole la maestria del fotografo di scena che è un mondo, un altro mondo bellissimo da esplorare e da vedere Va bene? Abbiamo continuato a girarci intorno? È arrivato il momento, è arrivato il momento Festival, il concorso dopo qualche giorno di avvicinamento di cui abbiamo parlato più volte il concorso inizia con uno spettacolo particolare perché è un monologo da qualche anno il Festival si è aperto a tutte le forme di teatro quindi sono stati più o meno abbattuti tutti i vincoli chiunque in qualunque forma può partecipare e anche il monologo che in passato non era diciamo ammesso si privilegiavano spettacoli collettivi è un monologo, un monologo in cui si riderà tanto però con una tematica molto molto seria il titolo è particolare anch'esso Stasera ovulo e come si può immaginare parla di gravidanza di una gravidanza in un'età diciamo non più giovanissima e quindi tutto ciò che è connesso al desiderio di cercarla e anche alle problematiche connesse al vivere la gravidanza in un periodo diciamo così particolare Il testo è di Carlotta Clerici, in scena gruppo attività di Peppino Mancini di Fasano Brindisi e appunto parliamo di un monologo e sarà giovedì 17 ottobre non ridirò più alle ore 21 al Teatro Rossini perché questo vale per tutti gli spettacoli in concorso proseguiamo invece con un grande classico Uomini e topi di John Steinbeck la compagnia ai giardini dell'arte di Firenze che torna a Pesaro dove ha ben figurato ripetutamente anche l'anno scorso sono stati al nostro festival quest'anno torna con un testo molto intenso drammatico dove veramente si può apprezzare quello che abbiamo detto più volte come anche nei compagnoni professionisti che si possono individuare delle interpretazioni di grandissimo valore perché ci sono attori fatti e finiti come si dice anche se poi di professione fanno altro proseguiamo ancora con una commedia si torna a ridere, si torna a ridere con Ray Kune che anche l'anno scorso fece ridere al nostro festival con lo spettacolo se devi dire una bugia beh allora dilla grossa che è anche un consiglio diciamo così che possiamo fare fare nostro la compagnia è il gruppo amici del teatro di Roncade in provincia di Treviso è appunto il testo di Ray Kunei non diremo che si parla di politici e amanti perché sembra che andiamo dietro al contemporaneo l'abbiamo scelto in tempi non sospetti però è un testo divertente da godersi a teatro arriviamo a domenica dove abbiamo riso drammatico un altro spettacolo che mette insieme più codici diciamo così duello il gioco dell'assassino di Anthony Sheffer la compagnia filodrammatica di V-mercate Monza-Brianza che debutta al nostro festival per uno spettacolo che ancora offre occasioni di divertimento ma è anche un thriller vero e proprio quindi una serata diciamo così ad alta tensione restando negli spettacoli in concorso ricordando che però da domenica a mercoledì ci sono altri due fuori concorso in particolare uno lo voglio ricordare che è il musical che è in doppio appuntamento ci sarà martedì 22 ottobre la sera scusate lunedì 21 ottobre la sera e martedì 22 ottobre la mattina rivolto prevalentemente alle scuole ma ancora aperto a tutti la compagnia dell'anello di Forlì porta in scena Not To Be Un Musical dedicato a Shakespeare e alla sua opera dicevamo mercoledì 23 ottobre pulcinellata sciamana qui torna un altro amico del festival Francesco Facciolli che è veramente uno straordinario pulcinella che mette in scena appunto un testo di cui è anche autore mattatore del palcoscenico per questo pulcinella tutto tutto da godere tutto da ridere la compagnia di tutti insieme di Corridonia Macerata giovedì 24 ottobre ancora una commedia con qualche tinte da thriller già dal titolo un po' lo si può capire il titolo è Killer la commedia di Aldo Nicolai la compagnia teatro di sabbia di Vicenza il 25 ottobre venerdì andiamo in un super super classico dopo uno Shakespeare diciamo così canzonato con le canzoni di un musical uno Shakespeare rigorosissimo Riccardo III dell'associazione culturale Artemisia di Bari uno spettacolo di grandissimo impegno una compagnia che per quanto riguarda scene, costumi come interpretazione fa uno sforzo ancora una volta ripetiamo che è difficile distinguere da quello di una compagnia di professionisti per un grande classico, un grande dramma che ci accompagna verso il finale del cartellone finale che poi raggiungeremo la sera successiva 26 ottobre con una compagnia che debutta, ritorna perché la compagnia La Graticcia di Verona che nasce diciamo dalle ceneri della compagnia della Barcaccia che è stata una compagnia storicissima diciamo così perdonami il neologismo che è venuta a Pesaro tantissime volte capitanata dal compianto Roberto Puliero che è stato veramente mattatore di questa compagnia di grandissima esperienza tante volte è venuta a Pesaro, tante volte hanno vinto da quella compagnia ne è nata una nuova ora la guida Giovanni Vitti il giovane, quello che le prime volte veniva a Pesaro me lo ricorda proprio un bambino ora è un giovane uomo che guida la neonata compagnia della Graticcia di Verona e porta in scena un altro classico il teatro comico di Goldoni un classico Goldoni in uno dei testi magari meno rappresentati di altri quindi abbiamo avuto modo di proporre qualche cosa di originale anche nel solco della tradizione cioè del teatro di Goldoni questi gli otto spettacoli in concorso dove la giuria ricordiamo una giuria di esperti capitanata da Giorgia Brusco nella tradizione inaugurata qualche anno fa di affidare la giuria ufficiale del festival a qualcuno che nel festival ha riscosso successo negli anni precedenti e che magari ne riscuoterà anche negli anni futuri ma che quest'anno si prende un anno di pausa e fa parte solo della giuria quindi Giorgia Brusco presidente di giuria ma ci sono anche altre due giurie uno è il pubblico che viene a teatro e ogni sera vota il gradimento per gli spettacoli che vede rappresentati e una di quelle per mettete in cui sono più affezionato che è quella dei giovani gli ultimi anni abbiamo avuto 40-50 ragazzi delle scuole superiori che tutte le sere sono venuti a teatro hanno guardato gli spettacoli sono ritrovati a discutere hanno fatto le recensioni insomma un'esperienza emozionante vedere tanti giovani così appassionati e impegnati nel avere una visione attenta di quello che vedono a teatro e quindi c'è anche il premio della giuria quindi tre giurie per designare i vincitori nelle varie categorie del festival e poi parlando di giovani ci sono i nostri concorrenti esattamente perché poi tutto quello che abbiamo detto ma come si fa a comunicare? in vari modi abbiamo il sito abbiamo i mezzi tradizionali ma abbiamo anche due strumenti uno è la media partnership con Rossini TV che ringrazio una volta di più con la quale mi sento anche di ricordare abbiamo inventato un premio perché fra i vari premi uno che non è giudicato dalle giurie ma è giudicato proprio numericamente dagli appassionati social il premio è il miglior trailer ogni compagnia propone un trailer si possono già vedere da qualche giorno su tutti i canali social del festival e di Rossini TV il trailer che riscuote più reaction positive cuori, like e quant'altro è il vincitore del premio offerto appunto da Rossini TV nostro media partner nel raccontare ma c'è un altro nucleo diciamo di raccontatori del festival e consentimi anche in questo caso mi rubano il cuore e sono i ragazzi di Oh My God un bel titolo una felice intuizione di qualche anno fa Oh My God che nasconde in realtà una storia bellissima ogni anno ci sono dei ragazzi che cambiano ovviamente perché poi si diplomano si disperdono un po' per l'Italia qualcuno continua a seguirci anche da lontano poi qualcuno si rinnova sono ragazzi delle superiori o anche dell'università che l'hanno fatto gli anni precedenti che si fanno carico di raccontare il festival e lo fanno nella maniera più autonoma possibile realizzano video hanno realizzato in passato dei giornali interviste, dirette e quant'altro e devo dire che la qualità del lavoro che fanno è pazzesco e questo è la cosa che ci emoziona tanto ma ci emoziona ancora di più la passione con cui fanno i risultati straordinari sono una gran cosa ma ancora di più è vedere quanto impegno quanto entusiasmo e quanta competenza mettono in questo lavoro non li voglio citare per nome per il timore di dimenticare qualcuno e sarebbe ingiusto non citarli tutti però veramente ogni sera in teatro sono ricordati quello sì per nome perché fanno un lavoro straordinario commovente li ringrazio veramente con tutto il cuore la nostra forza è nell'Oh My God nei ragazzi che si fanno carico di raccontarlo ma perché è nata questa cosa qualche anno fa ad un convegno di giovani in cui ci trovavamo noi diciamo operatori teatrali a dire cosa possiamo fare per convincervi a partecipare ai nostri eventi e per raccontarveli e lì mi hanno detto due cose una che mi ha fatto ridere non siete sempre adeguati ci avete messo una vita per capire che per comunicare con noi dovete venire sui social siete arrivati su Facebook eravamo già scappati tutti su Instagram quindi siamo sempre un po' in ritardo ma una cosa più importante che mi hanno detto è ci fidiamo di più se ce lo racconta un nostro amico e qui è nata l'idea allora di coetani che raccontano quello che succede al festival e devo dire che funziona tanto perché poi il successo di Oh My God è riconosciuto da tutti ma soprattutto dal pubblico di elezione cui è in dedicato che è appunto quello di giovanissimi e allora praticamente come se noi adesso passassimo il testimone a loro perché noi da questa realtà televisiva usciamo nel senso che è tempo di chiudere i discorsi tv e di cominciare a entrare in teatro ma l'elemento video non finisce perché appunto il testimone passa ai ragazzi della redazione possiamo chiamarla così di Oh My God che terranno informati tutti quelli che pur andando a teatro poi vogliono vedere qualcos'altro oppure magari non riuscendo ad andarci in alcune delle occasioni vogliono appunto informarsi su che cosa si sono persi noi oggi abbiamo dato tutto l'elenco avete capito a cosa vi siete abbonati perché noi sicuramente l'abbiamo fatto ma a qualcuno che già si è già abbonato è già pronto e non vede l'ora è scalpita ricordiamo che il festival si tiene dal 14 al 27 ottobre sarà la 77 edizione mi piace un sacco dire questo numero e per l'abbinamento con la Capitale Italiana della Cultura 2024 di Pesaro di cui tutti sanno in questa edizione si attua col sostegno di Comune di Pesaro Regione Marche Fondazione Cassa di Risparmio Università dell'Etat Libra e appunto tra come Media Partner a Rossini TV ricordiamo che c'è ancora tempo per votare il trailer e per abbonarsi e per andare insomma è ora è ora di passare dall'ascolto di fronte al televisore di questa cosa che ci auguriamo vi abbia veramente invogliato fortemente ad andare a teatro e appunto di passare da quello al varcare la soglia tra l'altro sempre emozionante devo dire del Teatro Rossini che noi cominciamo ahimè a considerare quasi un dato acquisito ci entriamo e ci usciamo forse con troppa disinvoltura ma se e questo è un consiglio che mi sento di darvi ci soffermiamo un attimo a guardare e a respirare e a osservare è sempre veramente qualcosa di molto emozionante perché è un teatro che trasuda storia e che dà la sensazione di grandissima bellezza questo è quello che mi sento di dire bene sottoscrivo ogni parola che hai detto che bello che bello sono così contento che farei un festival due festival all'anno solo per fare queste puntate guarda anche tre allora Cristian ci siamo siamo al dunque siamo a chiudere questa nostra trasmissione e a darvi appuntamento direttamente in sala per tutto quello che vi abbiamo detto e raccontato se qualcuno ha perso una delle puntate può andarla a recuperare appunto dalla applicazione di Rossini TV che vi consigliamo comunque di scaricare sui vostri cellulari perché è utilissima per tante opportunità oppure di andare sul canale YouTube e cercare la playlist dedicata e altro non c'è? No tutto quello che noi non abbiamo detto lo si può trovare chiedendo informazione al teatro Rossini a biglietteria del teatro Rossini che è aperta tutti i giorni mattina dalle 10 e 30 dalle 10 e le 13 scusate e il pomeriggio dalle 17 fino a inizio spettacolo nei giorni di spettacolo ovviamente e sul sito dell'associazione oltre che sui canali social dell'associazione Amici della Prosa sui canali di Rossini TV sul sito www.festivalgatpesero.it Appuntamento a teatro grazie a tutti e restate sempre con Rossini TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti